Ciao ragazzi, sono io, il vostro amichevole Alex di quartiere. Sì, sono la voce di Spider-Man, per chi non mi conoscesse, ma molti non sanno che oltre a doppiare Spider-Man, faccio anche il cantante. E adesso volo a Milano per lavorare in studio con il mio producer Dima. Eccolo qui, ve lo presento. Vi faccio vedere la mia giornata tipo a Milano. Sì, perché io sono di Roma e di solito vado a Milano per fare musica. Non so se parlerò tutto il tempo con la voce di Spider-Man, anzi, adesso mi scaccio un po' e comincio a parlare romano. Mi alzo dal letto e mi metto subito in tenuta da allenamento. Sì, perché quando sono a Milano mi viene voglia di allenarmi magicamente. A Roma non lo faccio mai. Sono veramente un buono a nulla. Ma sì, perché qui respiro aria da turista, capito? E vado qui nel parchetto a City Life ad allenarmi un po'. Vediamo che cosa ho fatto. Oltre a perdere tempo a fare video stupidi, ho provato a fare cose semplici che però facevo una volta, perché prima mi allenavo un po' di più. Adesso sono fuori allenamento e come vedete ho un po' di panzetta che voglio levare prima dell'estate, un po' come tutti. Una bella doccia e poi si può partire con il mio amato monopattino che porto sempre da Roma in treno per andare in studio per incontrare il mio amichetto. Dima, il best producer della vita. Sì, perché lui riesce a far suonare al meglio le mie canzoni e mi aiuta anche a scriverle molte volte. Stiamo registrando le voci del mio nuovo pezzo che uscirà a breve, non vedo l'ora che lo sentiate. Così mi fate sapere se vi piace. Mi piace molto stare in studio, ma soprattutto mi piace quando arriva l'ora del pranzo per una bella pizza. È arrivato il momento delle chitarre. Dima è un bravissimo chitarrista e io quando lui suona mi godo semplicemente lo spettacolo. Qui volevo solo flexare i miei pantaloni nei calzini, che è una cosa che adotto spesso nei miei outfit. E niente, tutto questo per dirvi che insieme al doppiaggio la musica è la mia più grande passione e quindi non vedo l'ora di tornare a Milano per fare nuova musica. Intanto godetevi le mie canzoni che sono già uscite. Le trovate un po' dappertutto. Ciao!